Oggi prende il volo per Stoccarda, Stuttgart, il leone d'argento del 65esimo Festival Internazionale di Musica Contemporanea, che viene attribuito ai magnifici sette dell'ansamblo vocale Noie Vocalsolisten. I Noie Vocalsolisten sono il più importante rappresentativo ansamblo vocale dedito alla musica contemporanea. Un'ansamblo composto da sette solisti eccezionali, le cui interpretazioni si distinguono per teatralità e efficacia drammaturgica, lasciando emergere la peculiarità di ogni voce e la forte personalità di ogni componente del gruppo. It's the price of the Biennale di Venezia, the city of Luigi IX, who was the most important composer during the first 15 years of our work. There is a sort of a line from Schoenberg over Webern, a line that's going somewhere in future. And now we are here, as it's going there, in all directions. We are here, as it's going there. We are here, as it's going there. The pie came up with the press. And my press with my press. And my press. And then we go to the box. Pross. Pross. Brawl, lion. Auf dich. Wow, prins. Youngster. Prost. Hey baby. Thank you. This man. All right, all right. So, let's do this. So, let's do this. So, let's do this. Grazie a tutti.